Ciao, sono Naonobu. Adesso sono a Tokyo, a Kameido. Kameido è una zona, questa parte di Tokyo. A Tokyo c'è un famoso tempio, ecco vedi, si chiama Kameido Tenji. Andiamo a vedere perché c'è una cosa bella. Andiamo. Andiamo. Questa è Fiori di Griglie. In jappone, Sikiyama, Fujinohana. Grazie. Grazie. Ciao ragazzi, come è questo video? Se ti interessa il mio video, segui il mio canale, per favore. Questa parte, clicca per favore. A presto. Ciao, ciao. Grazie.